Ciao sono Golkenji e oggi siamo su Scrivena Unlimited Allora, eravamo qui In sto vulcano Ah, c'è Frodo, non l'avevo notato la scorsa volta Ho dimenticato Cosa dovrei gettare nel vulcano Te stesso forse, no? L'anello Buttalo dentro Dai Monta Dai No Dove vado? Mi sto portando via Usa animale No, no Continua Ok Bastard Dammi qualcosa da lanciare al mio cane Un osso gigante Tira Valla a prendere Tieni lontano i quattro cavalieri dell'Apocalisse Wow Allora Quattro cavalieri dell'Apocalisse Dissuare i quattro cavalieri dell'Apocalisse Trova modo per fermarla Trova modo per fermarla Il Papa No, il Papa Vabbè Papi Pace Un santo Un santo Un angelo forse Soldi Soldi Amico Festa 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 Oh Ehm So Faccia festa Allora Poca punte Aggettivo Pacifico E siamo a posto Basta uno E guerra Fatta Carestia Questo è Se non mi sbaglio La guerra è finita ma è La carestia ha assaurito le riserve di cibo Trova da mangiare per inattivi Ah è già fatto Ok Possiamo mangiare tra di loro Perfetto Morte È arrivata anche morte Nonostante le limitate di cibo sono morti Trova modo per riportarli in vita Ehm Defibrillatore Ok A posto Anche morte è stata sconfitta Perfetto Continua Allora c'è questo qua Che cosa vuoi È una località turistica terribile Aiutami a non disidratarmi Acquazzone No 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 Non uccidemelo Ok Banco di lavoro C'è il laser qua Sì Paraggi La mia pistola La mia pistola A Ha bisogno di energia fredda Aiutami a trasformare In una pistola congelante Allora Congelante No ma volevo Congelante Congelante Congelata Perfetto Che cazzo fai? Oh Antro Non mi serve Devo andare via Ma non posso lasciare il mio uovo da solo Cosa è un tacchino? Un teratorn Allora Teratorn Perfetto Io Vabbè, prima facciamo Sei la mia mamma? Sto cazzo Va bene Monta, monta, monta Vediamo un po' Qua c'è il resto Salva il villaggio dal vulcano Che sta per eruttare Ci sono Inizia Beh, fare il villaggio lì non è proprio la cosa migliore Il vulcano sta per eruttare Salva il villaggio dello sciamano sacrificando oggetti della dea vulcano Scrivi tre doni della terra per gettare nel vulcano Allora, gli alberi Albero Pianta Frutta La frusta L'utensile La cucina, naturalmente Mela E Nuvola No Meteorite Uccello Tanto ormai No Ok Devi morire Yuppidu No Salza, salsa Non basta Allora, vediamo un po' Il vulcano è ancora arrabbiato Forse non è contento del nostro amore per la tecnologia Cerca di pagarlo scrivendo più sacrifici Oh Tecnologia Quindi forse un computer Un Joystick Sperando che si scriva così No, infatti non si scriva così Un gioco Così E Video Gioco Ah, il Game Boy Mette Sali, sali Che tappositi ci butto te dentro L'attività del vulcano aumenta Forse la dea vulcano vuole un sacrificio in denaro Crea una donazione per il vulcano Eh Soldi Yeah I soldi placano sempre tutto Ma stavolta no Sì, sì Tranquillo Tranquillo Le offerte non hanno funzionato La dea del vulcano è apparsa Vuole uno spasimante Crea qualcuno con cui sarà felice Un uomo Sporco E vecchio Tieni La lava però Ah Bene Bene, bene Mia, 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 mia Sacrificio vulcanico Completato Perfetto Vediamo qua Fornisce la scintilla della vita Fulmine Ok Ah, la felice Excalibur Spada arrugidita Aiutami a temperare questa spada magica Una Cos'è già? La cote? No Pietra Dovrebbe bastare, però Fulcina di grandezza Andiamo avanti Liberaci dal terrificante Sguardo della Coccatrice Monta Andiamo Smonta Eh Muori Cioè, non muori Morto Ok Ed è ancora incazzata Mago Ho perso la corona Nel vulcano Ritrovamela per favore Osso Ha, 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 ha Qua, colpa No, no Allora Ah, ok Devo metterci qualcosa sopra Pietra No Tenga Oh, ho Recuperò della corona Cosa c'è ancora? Blob Mi sono imbattuto nella melma Cioè, merda Trovo un modo per contenerla Eh? Eh Rete Di contenimento No Rete Strumento E vai via Per contenere la melma Gabbia Fatto? No Eh La melma Allora Una Proviamo a vedere Corda Attacco Uno qua Lega E lega Vieni Ok Via Posto Non aveva paura Allora Vai a quel paese Getta la cena nel calderone Bambino Neonato Naturalmente Sa di pollo Eh no Però non è pollo Ok C'è solo quello lì Ma fa niente Fa niente Vediamo se Riusciamo a fare un altro livellino Un po' veloce Eh ma sono tutti Tutti Due Sette Uno Otto Ok Allora facciamo che Terminare qui Quindi come sempre Commentate Iscrivetevi Un bel mi piace E ci vediamo al prossimo episodio Ciao Ciao